L'esecutore di questo brano è Antonio Addeo, che è un neopromesso alla classe di pianoforte, guidato ovviamente dall'insegnante Rosa Maria Enea. Ci suonerà un brano dal titolo L'oca e il bue. Accompagnato dalla docente Rosa Maria Enea. Sei pronto Antonio? Eccolo qui. Bravissimi. Tutti piccolissimi questa sera. Prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.